Fogna a cielo aperto, strada dissestata, muri pericolanti, sterpagli, animali randaggi e carenza di illuminazione pubblica. Sono solo alcuni disagi che vivono quotidianamente i residenti della via Petrarca nella zona Valle di Agrigento. Le abitazioni si trovano accanto l'eterna incompiuta del palazzetto dello sport, progettato più di un trentennio fa e mai ultimato. Stanchi di vivere in condizioni di estrema difficoltà, questa mattina alcuni abitanti della zona si sono rivolti alla nostra redazione per denunciare lo stato di abbandono in cui vivono e per chiedere l'intervento dell'amministrazione comunale. Tra l'estate noi siamo stati con questo imbarcatura, posteggio di macchine andiamo a posteggiare lontano, ci sono dei disabili qui. In effetti abbiamo pure un signore senza gamba, viene un 118, ci sono abbastanza disabili in questo quartiere che non voglio accumulare i nomi perché non è giusto che non sono presenti. Per cui diciamo che un disabile oppure un signore con la spesa dovrebbe venire, insomma l'imbarcatura è da tre mesi. Ora hanno chiuso i lavori e da una settimana, 15 giorni, non mi ricordo quanto sia di preciso perché non voglio dare una data, ma i muratori, diciamo un signore così perché io non lo conosco, ci hanno detto che sono finiti i soldi. Qua siamo abbandonati, abbandonati dal comune, abbandonati dalle gergenti acque, praticamente c'è questa fogna, c'è l'aperto che due o tre palazzine, voi vi accorgerete che fuoriesce anche delle feci umane, così chiaramente. Poi hanno iniziato, il comune ha iniziato a fare questi lavori qua che voi vedete, ma porca miseria, è possibile che lo lasciano sempre a metà del comune? Perché pare che di fronte, come si gira l'angolo, pare che lo lasciano, lo debbono lasciare così. Ora che significa? Che di nuovo le macchine ci vengono scassate dalle pietre che cadono, il fango che scende, cioè questo è il problema, cioè praticamente qua siamo veramente un quartiere abbandonato a se stesso. I vandali hanno rotto il cancello d'ingresso e allora chiunque può entrare all'interno del costruendo palasporti in via Petrarca che attende di essere ultimato da oltre 38 anni. Tutto attorno è degrado e abbandono. La struttura è diventata rifugio per animali randaggi e non solo. Migliaia, migliaia di euro spesi inutilmente. E sono soldi dei contribuenti andati ormai persi. Ne serviranno altre centinaia, migliaia per rimetterlo in sesto e magari ultimarlo. Lo spettacolo è indecoroso. Erbaccio ovunque, carcasse di animali morti ed escrementi. La gente ha scambiato la struttura per un bagno pubblico, poi muri imbrattati e per terra anche materiale di risulta. Il costruendo palasporti ed egregento è diventato una discarica e non solo. C'è il palazzetto dello sport, quello che deve diventare palazzetto dello sport, che ci vanno drogati la sera, ragazzetti che vanno a fare l'amore. Grazie a tutti.